Oggi vediamo una morsa particolare, adatta per oggetti con forma irregolare o sferici. Ha una serie di fori e otto perni. Ora vi mostreremo come funziona. Ha un'apertura massima, che arriva a 57 mm. Ecco qui, vediamo l'apertura massima, dietro all'attacco per il manico. Ecco, si può avvitare il manico in legno. Ha 60 fori, che possono ospitare gli otto perni in dotazione. Ecco, vediamo, si inseriscono i perni, non necessariamente tutti, proprio per bloccare degli oggetti senza rovinarli, naturalmente. Può essere utilizzata in orologeria, in oreficeria, nel modellismo, proprio per bloccare dei piccoli pezzi con una forma irregolare. Ecco, qui vediamo, i perni inseriti potrebbero bloccare un pezzo. Ora, con un orologio, la casa di un orologio che è otto, e vediamo come si può bloccare. Una volta posizionati i perni, si stringe la morsa e si blocca il pezzo. E vediamo, i perni inseriti potrebbero bloccare. Se vi interessa questa morsa, la potete trovare, come tanti altri articoli, sul nostro sito elettronicadidattica.com Vi aspettiamo per altri video, iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica.